Dal 7 al 9 agosto, nell'incantevole scenario di Borgata Costiera, a Mazzara del Vallo, Festa del Pane, della civiltà contadina e della tradizione cerealicola. Dopo il grande successo della prima edizione, la Festa del Pane ritorna con mostre mercato, degustazioni, street art, sport, spettacoli itineranti nei vicoli con il gruppo Folk e i Burgisi e la splendida coreografia delle Fiat 500 addobbate a tema. Alla Festa del Pane, grandi show e risate, il 7 agosto con Salvo la Rosa e l'Itterio, l'8 agosto con Giuseppe Castiglia, il 9 agosto con Toti e Totino, presenta Alessia Belluomo, direttamente dalla trasmissione Insieme. Da un'idea di Francesco Foggia, con la consulenza storica di Danilo Di Maria, Festa del Pane, dal 7 al 9 agosto 2016. Vi aspettiamo dalle ore 18 alle ore 24 a Borgata Costiera di Mazzara del Vallo, organizzazione UNAC, con la collaborazione della Proloco e il patrocinio della città di Mazzara del Vallo e dell'assessorato sport, turismo e spettacolo della regione siciliana.